C'è anche questa volta la firma di Cinzia Deliberto accanto a quelle dei consiglieri comunali dei gruppi di centrodestra nella presa di posizione odierna della minoranza in merito alla notizia venuta fuori nelle scorse ore durante la trasmissione di TRS e la giostra condotta da Michele Termine, secondo cui, stando a quanto riferito dal sindaco Francesca Valenti, l'attesissimo bando per l'individuazione del partner privato per la riapertura e gestione delle termini di sciacca sarebbe pronto per essere pubblicato nelle prossime settimane. I consiglieri comunali di centrodestra più la Deliberto evidenzano che quando si parla di terme è innegabile che la rabbia e le perplessità inducano riflessioni amare. La notizia della possibile concretizzazione di un processo atteso da anni, nei quali le terme sono state chiuse e devastate, viene considerata con le dovute precauzioni utile a dare l'avvio ad una possibile svolta. Esponenti della minoranza i quali tuttavia ritengono opportuno fare una seria riflessione sul ruolo che rivestono la nostra città e l'intero Consiglio Comunale. Si domandano così perché ad oggi non siano stati resi partecipi di queste possibili sostanziali novità, perché il Consiglio Comunale, che dovrebbe rappresentare l'intera città, non sia stato informato e perché la stessa Regione Sicilia, in sinergia con l'amministrazione Valenti, non renda pubbliche le novità ai passi avanti compiuti in questi mesi. Il troppo silenzio lascia come sempre spazio ai cattivi pensieri, sostengono Cinzia Deliberto, Pasquale Bentivegna, Calogero Bono, Silvio Caracappa, Lorenzo Maglienti, Giuseppe Miglioti, Salvatore Monte e Carmela Sant'Angelo. La accusa l'amministrazione è quella di aver fatto perdere la carica politica al Consiglio Comunale, visto e considerato che non esiste più quello che viene definito serio e produttivo confronto tra le parti. Se il sindaco, osservano i firmatari della nota, è in possesso di una bozza del bando o di una visione generale dell'impianto del bando stesso, ci informi e ci delinea il suo contenuto ancora prima che i giochi siano fatti. Se il bando è pronto non possiamo che essere felici, aggiungono i consiglieri, ma, chiariscono al contempo, è opportuno che la città venga debitamente informata. È una questione di rispetto e garbo istituzionale che dovrebbe vederci tutti d'accordo nella possibilità di analizzare quello che si spera potrebbe rappresentare uno strumento di rinascita e resurrezione del patrimonio più importante di Sciacca. Consiglieri comunali di opposizione quali ricordano che per anni si è assistito a siparietti, passerelle, chiacchierate e rassicuratrici, ma ad oggi di concreto non abbiamo visto nulla. Pensiero che vale per tutti, per tutte le parti politiche, nessuna esclusa parti politiche che dovrebbero capire che i saccensi, così come gli abitanti di Cireale, non sono numeri utili solo durante le elezioni, ma cittadini responsabili e bisognosi di riavere ciò che loro al Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano viene chiesto di farsi portavoce della necessità di un incontro informando la città sulle reali novità, sperando che queste novità ci siano davvero.